Kaspersky e Ferrari sono aziende che condividono valori quali l'eccellenza tecnologica, la performance elevata e l'assoluta sicurezza. L'unione delle loro forze ha dato vita al nuovo Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition, il software che consente di godere appieno della navigazione sicura in Internet, sia che si tratti di lavoro, di acquisti o di giochi online, assicurando al nostro PC una protezione senza eguali da tutti i tipi di malware e minacce provenienti da Internet. Vediamo insieme alcune delle principali funzioni. La protezione dell'identità digitale viene garantita dall'anti-phishing intelligente e dalla tastiera virtuale, che impediscono il keylogging, ovvero la registrazione di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera, come login, password, numeri di carte di credito, PIN, rendendo così del tutto sicure le operazioni di shopping e banking online, così come le registrazioni e gli accessi ai social network. La modalità di navigazione sicura, grazie agli aggiornamenti regolari del database di Kaspersky Lab, consente di bloccare automaticamente i siti indesiderati a loro apparire. Un parental control particolarmente efficace e flessibile limita e registra tutte le applicazioni e gli accessi ai siti web, garantendo ai più piccoli il massimo della sicurezza online. La modalità protetta permette invece di eseguire applicazioni e siti web sospetti in un ambiente perfettamente isolato, in modo che il sistema non possa subire alcun danno. Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition possiede dunque una gamma di tecnologie uniche, perfette per offrire il massimo della protezione a tutta la famiglia. Ma c'è di più. Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition offre la possibilità di giocare con il video simulatore ufficiale Ferrari Virtual Academy incluso nella confezione. Dal sedile di una Ferrari F10 possiamo spingere il pedale della macchina per farla correre nel famoso circuito di Fiorano per l'occasione brandizzato Kaspersky Lab. Non esistono altri video simulatori o giochi che rendono in maniera altrettanto fedele l'esperienza di guida della F10 e del circuito di Fiorano. Ogni aspetto è stato fedelmente riprodotto fino ai più piccoli dettagli, incluse le posizioni di guida dei piloti, i caschi, i guanti e persino il loro temperamento di guida. Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition prova il brivido delle corse, sapendo di poter correre in piena sicurezza.